Due nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore al Maggiore di Modica, un ragazzo di Gela, le cui condizioni restano critiche, una donna di Rosolini, attese nel pomeriggio invece due nuove dimissioni. L'Asp comunica ai vari sindaci Iblei i casi di contagio nei comuni di competenza, a Pozzallo tre persone positive al tampone ma non in gravi condizioni. Controlli da questa mattina sulle principali arterie di ingresso a Modica, obiettivo della Polizia Municipale blindare il comune e contrastare ulteriormente il propagarsi dei contagi. Un'iniziativa lodevole, sostegno sanitario per chi non può o non vuole muoversi da casa, visite mediche direttamente a domicilio per i casi meno gravi con il contributo di molti specialisti. Salve a tutti e ben trovati con l'informazione di Tg 74. Apriamo il telegiornale parlando della situazione ad oggi all'interno dell'ospedale Maggiore di Modica che registra nelle ultime ore due nuovi ricoveri di persone provenienti da fuori provincia. Attese invece nel pomeriggio due nuove dimissioni di pazienti che continueranno le cure a casa. Intanto l'ASPE si organizza per affronteggiare la carenza di tamponi e quindi avviare controlli a tappeto su quanti proveniendo dal nord si sono autodenunciati nelle scorse settimane. I dettagli nel servizio. Tenere la situazione sotto controllo, evitare il diffondersi del virus e monitorare lo stato di salute di ogni singolo cittadino proveniente da fuori ragione e attualmente in isolamento volontario. Sono gli obiettivi non facili da raggiungere su cui mira l'ASPE di Ragusa visto la scarsa disponibilità di reagenti per la realizzazione dei tamponi. A scarseggiare infatti oltre ormai alle mascherine e guanti in lattice sono proprio i reagenti e senza questi diventa sempre più complicato avere il polso su quanti arrivati dal nord. Sono effettivamente i positivi senza accusare però alcun sintomo di contagio. Intanto ieri sono comunque iniziate le operazioni di prelievo dei tamponi nell'ex presidio del civile di Ragusa e si sta valutando sempre a causa del basso numero di tamponi disponibili la possibilità di iniziare con i prelievi anche negli altri due presidi di Comiso e Scicli. Per questo motivo sembra che l'ASPE al momento stia privilegiando le analisi sui campioni provenienti dai pronto soccorso o da persone sintomatiche in attesa che arrivino quantità adeguate di reagenti per laboratorio e per garantire le analisi in emergenza. Quello che conforta è la risposta che sta fornendo la comunità ragusana all'emergenza e alla richiesta di restare a casa. Dalle mappe italiane si evidenzia come la Sicilia e soprattutto la provincia iblea sia quella che meglio di altre sta tenendo testa nella lotta al contenimento del virus. Si prosegue con una media di 3-4 casi positivi al giorno e con pochi ricoveri al maggiore di Modica, alcuni di questi provenienti da fuori provincia. Ieri in serata un altro ricovero al Covid Hospital di Modica. Si tratta di un'anziana di 88 anni proveniente da Rosolini trasferita al reparto di malattie infettive del maggiore. Ricovero che si aggiunge a quello sempre di ieri pomeriggio di un ragazzo di 32 anni proveniente da Gela ma presentatosi spontaneamente al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria per essere ricoverato in chirurgia vascolare. Dopo il tampone che ha rilevato la positività è stato trasferito quindi a Modica. Le sue condizioni sono apparse subito gravi a tal punto da richiedere il ricovero in rianimazione. In totale quindi con tre pazienti di Rosolini e uno di Gela sale a 4 il numero dei ricoverati provenienti da fuori provincia mentre arriva a 10 il totale dei pazienti sotto osservazione nel Covid Hospital. Numero che è destinato però a scendere in considerazione delle due possibili dimissioni che dovrebbero arrivare nel pomeriggio di oggi. Tre persone risultate positive al tampone adesso in quarantena domiciliare a Pozzallo. Lo comunica lo stesso sindaco Roberto Ammatuna. Presa l'informazione dall'ASP7 la situazione avverte è sotto controllo. Quello che invece più preoccupano sono i circa 450 soggetti recentemente arrivati in città e che magari non sempre rispettano l'isolamento domiciliare. Sentite. Al via il filo diretto tra l'azienda sanitaria provinciale e i sindaci Blei per monitorare costantemente la situazione legata ai controlli dei soggetti in quarantena perché risultati positivi al coronavirus. Il primo sindaco è intervenito ufficialmente dichiarando di aver preso atto della situazione nel comune di competenza e quello di Pozzallo Roberto Ammatuna. In totale circa 450 persone ad oggi costantemente monitorate perché provenienti da fuori regione e quindi in isolamento domiciliare. Tra questi anche diversi casi di positività le cui condizioni non sembrano però problematiche. Si tratta di cittadini in costante monitoraggio che usciranno solo dopo l'esito negativo di due tamponi. Ieri mi è arrivato un link da parte dell'azienda sanitaria provinciale con gli elenchi di tutti i soggetti in quarantena e dei soggetti eventuali positivi al coronavirus. A tuttora noi abbiamo una registrazione di 450 soggetti pozzalesi che sono in un regime di quarantena. Mi è stato inviato questo link con la relativa password che è riservatissima con l'elenco di tre nomi di soggetti che hanno avuto il contagio del coronavirus che stanno benissimo, che sono controllati, che non possono uscire e usciranno soltanto quando non un tampone ma due tamponi consecutivi saranno negativi. Quindi una situazione assolutamente sotto controllo, una situazione tranquilla. Quello che forse più preoccupa invece il primo cittadino è il costante monitoraggio di chi è recentemente rientrato nel proprio comune senza però rispettare in pieno il periodo di isolamento volontario. Persone non facili da raggiungere e controllare costantemente su cui ci si affida solo al buonsenso di ogni singolo individuo. Io a dire la verità mi preoccupano di più tutti quei soggetti che sono in quarantena e magari poi escono fuori e prendono alla leggera questo loro stato e non mi preoccupano assolutamente questi nostri tre concittadini che sono chiusi nelle loro case e usciranno soltanto quando due tamponi, ripeto ancora, due tamponi consecutivamente saranno negativizzati. Il tentato suicidio a Ragusa è stato tratto in salvo grazie all'intervento tempestivo dei poliziotti delle volanti l'uomo che nella serata di ieri ha minacciato di lanciarsi nel vuoto dal ponte di via Roma a Ragusa a segnalare le intenzioni suicide del padre è stata la figlia che in lacrime ha chiamato la sala operativa della questura sul posto in pochi secondi è giunta una volante della polizia di stato che si è trovata di fronte a una scena drammatica con il soggetto a cavalcioni sulla ringhiera del ponte di via Roma con una parte del corpo già pericolosamente nel vuoto che minacciava di lanciarsi. Dopo aver richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario, gli agenti hanno iniziato a parlare con il giovane cercando di farlo sfogare, di capire e comprendere le sue motivazioni legate alla disperazione per la perdita del lavoro. Nel frattempo uno dei poliziotti è riuscito ad avvicinarsi bloccando l'uomo per una gamba al fine di impedirgli di lanciarsi. Accompagnato successivamente all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa è stato affidato alle cure del personale sanitario. Il comune di Modica da oggi è ancora più blindato e controllato. Sono infatti partiti oggi i controlli da parte della polizia locale nelle principali arterie di ingresso alla città. Prende così vita il programma del sindaco Abbate che mira a monitorare ogni singolo accesso al fine di contrastare il diffondersi dei contagi da coronavirus nel comune di competenza. Della scorsa settimana la notizia dell'autobus bloccato ad Avola è in procinto di arrivare a Modica con all'interno oltre 20 persone non controllate. Un caso che ha aperto a nuove preoccupanti riflessioni sullo stato dei controlli in tutta l'isola e poi denunciato dallo stesso sindaco di Modica, Ignazio Abbate, davanti tutta Italia a pomeriggio 5. Quello che si chiedeva era una maggiore sicurezza con controlli a tappeto utili a monitorare ogni ingresso nei comuni dove è ancora bassa la percentuale di contagi proprio al fine di contrastare il diffondersi del virus. Oggi quindi il primo passo in avanti in tale senso volto a sorvegliare le strade di ingresso alla città con posti di blocco effettuati già da questa mattina da parte della polizia locale di Modica. Alle attenzioni degli agenti non solo i cittadini che arrivano a Modica ma anche gli autobus extraurbani e mezzi pesanti. L'obiettivo, commenta Abbate, è quello di essere certi di ogni singolo spostamento e di ogni ingresso a Modica al fine di tranquillizzare i cittadini. Abbiamo pensato di mettere in campo proprio in questa fase e dobbiamo essere ancora più stretti e cercare di poter passare il momento critico che sappiamo è piccolo e si aspetta nei prossimi giorni anche controllare specialmente chi entra nella nostra città fuori da fuori. Quindi abbiamo deciso di poter fare programmare gli interventi con il nostro personale su tutte le serie di entrata, quindi da parte di Rosolini Noto, poi Spica Pozzallo e poi da Ragusa e da Scigli sul nostro territorio. Quindi ogni giorno vengono fatti portugli in posti di blocco per controllare ogni singola mattina che passa. E poi la cosa importante, come voi già sapete, le linee ultraurbane degli autobus hanno una sola fermata a Modica e è tutta a Bari Centro, quindi a Bari Centro c'è una pattuglia che staziona continuamente e controlla tutto il personale e tutte le persone che sono all'interno degli autobus che trattano per Modica e poi si fa l'identificazione per vedere se sono persone autorizzate o non a viaggiare e poter passare da un comune all'altro. Quindi cerchiamo di controllare ancora di più il territorio e cerchiamo sempre di più di stringerci attorno anche per non vanificare lo sforzo che ogni singolo cittadino modicano sta facendo e rimanendo a casa e comportandosi in modo veramente impeccabile. E una interessante conferenza stampa si è tenuta questa mattina per spiegare nel dettaglio una nuova iniziativa di assistenza a domicilio rivolta ai malati non gravi che comunque, visto che oggi è molto più difficile accedere ai servizi sanitari, necessitano sempre di supporto e assistenza. Per questo si è attivata una vera e propria rete di servizi direttamente a domicilio e molto altro. I dettagli nel servizio. Servizi sanitari a domicilio per affrontare l'emergenza coronavirus sul territorio ibleo evitando affollamenti in ospedali e studi medici ma curando le persone direttamente a casa. L'iniziativa ideata da Pietro Di Falco, capofila del progetto, è stata subito supportata da diverse aziende e associazioni di Ragusa con il sostegno del comune di Ragusa e di Assortopedia Nazionale che oggi in videoconferenza hanno spiegato nel dettaglio l'iniziativa. Abbiamo all'interno una rete di farmacie e noi svolgeremo per queste farmacie il servizio di distribuzione dei farmaci. Per tutti. Per tutti. È importante sottolineare, qualcuno mi fece un'obiezione dicendo ma già questo lo sta facendo la protezione civile, già questo è un servizio che i comuni stanno cercando. Sì, è un servizio che è garantito per le persone definite a rischio ma non per tutti. Quindi noi ci rivolgiamo a tutti, sia a quelli a rischio che magari abitano in qualche distretto dove non è facile da raggiungere dagli altri canali, ma sia alle persone che semplicemente sono a casa e hanno paura di andarsi a mettere in fila in una farmacia che non vogliono stare fuori a intasare di code insomma tutte le varie sanitarie e farmacie e officine ortopediche che si trovano sparse nel territorio. Considerazione che c'è tanta gente in difficoltà perché tutto quello che sta succedendo logicamente si ripercuote in maniera estremamente negativa su quelli che erano già delle persone fragili e delle persone che avevano problemi proprio di sbarcare il lunario giornalmente. Mi sembra opportuno che qualsiasi iniziativa che possa dare un aiuto a queste persone debba essere messa in campo. Come comune, come servizi sociali abbiamo già attivato dei numeri telefonici tra i quali si può telefonare chi è in difficoltà per avere proprio un immediato supporto economico in buoni pasto, in buoni spesa. È logico che se ci sono altre iniziative di questo tipo non possono che essere gradite perché capite bene che la gente che è in difficoltà in questo momento è veramente tanta. La parola d'ordine è il servizio a domicilio ovvero la distribuzione di farmaci direttamente a casa e non essenzialmente alle sole persone ritenute a rischio contagio. Per loro anche il disbligo di pratiche direttamente da parte di volontari già individuati. Infine un'officina ortopedica mobile che permette di realizzare qualsiasi ortesi o protesi a domicilio. Lo scopo quindi è quello di curare a casa chi ha problemi di salute non urgenti ma che possono peggiorare se trascurati come per esempio l'ulcera o un mal di schiena. Per loro è già attiva la teleconsultazione direttamente a casa. Il fatto di non poter avere un controllo continuo sulle lesioni di soggetti diabetici molto esposti alle infezioni può significare perdere la funzionalità del piede se non perdere il piede in toto. La rete è composta da farmacie per la consegna di medicine a casa negozi e articoli sanitari associazioni per l'assistenza dei disabili e professionisti medici e paramedici di ogni settore dal fisioterapista al pediatra o all'infermiere tutti disponibili a fornire a domicilio i propri servizi perché adesso più che mai accedere ai servizi sanitari è certamente più complicato. E dopo i buoni spesa un'altra iniziativa da parte del comune di Modica per andare incontro alle esigenze economiche dei cittadini il sindaco e la giunta hanno elaborato un piano di pagamento degli affitti di cui potranno beneficiare sia i singoli cittadini che le attività commerciali sentite. Per chi non può permettersi di pagare gli affitti sarà il comune ad onorare le scadenze al loro posto versando le somme due mensilità in totale direttamente al proprietario dell'immobile una nuova iniziativa a sostegno dei tanti cittadini che hanno lamentato di non riuscire più a garantire il rispetto delle scadenze per quanto riguarda gli affitti delle attività commerciali e delle proprie abitazioni. La manovra che utilizzerà le risorse previste nel bilancio di previsione per attività inerenti lo sviluppo economico e le attività culturali si svilupperà quindi su due fronti in totale 300.000 euro da destinare a commercianti e cittadini che non riescono più a pagare gli affitti delle proprie attività commerciali o delle proprie abitazioni un intervento quindi su un doppio fronte che per attività commerciali interesserà sia gli artigiani che i servizi all'infanzia asili nido e ludoteche tale supporto economico andrà ad aggiungersi agli effetti del decreto nazionale che consente di ottenere il 60% sul credito di imposta per il mese di marzo nella prossima dichiarazione dei redditi mettendo a disposizione il rimanente 40% per una quota massima per ogni azienda di 1000 euro al mese sia per il mese di marzo che per quello di aprile ad usufruirne le attività che sono rimaste chiuse per tutto questo periodo per i privati cittadini che sono in affitto viene pagato per intero fino a un massimo di 400 euro mensili sia il canone di marzo che quello di aprile ad usufruirne saranno quelle famiglie che in questo periodo non hanno modo di garantire il pagamento del canone di affitto a causa di una sensibile riduzione del reddito familiare dovuto a motivi riconducibili all'emergenza Covid-19 per accedere ai benefici di questa manovra basterà presentare un'autocertificazione modulo scaricabile dal sito ufficiale del comune di Modica allegando il contratto di affitto e il codice IBAN del proprietario dell'immobile che riceverà il bonifico la domanda si potrà presentare da domani fino all'11 di aprile stavamo studiando ha affermato il sindaco Abbate questa manovra già da diversi giorni adesso siamo intervenuti in maniera decisa stanziando bene 330.000 euro 111 per le famiglie e 219 per le attività commerciali che garantiranno una grossa mano d'aiuto per tutti i cittadini oltre che una novità assoluta nel panorama nazionale questa misura si aggiunge a quelle già messe in campo da settimane negli sgravi dei tributi locali e nell'erogazione dei buoni spesa bandiere a mezzasta alle 12 di oggi in tutti i comuni delle città italiane è un minuto di silenzio per ricordare le vittime del coronavirus per onorare il sacrificio e l'impegno degli operatori sanitari e per stare uniti in un momento di grave emergenza per tutto il paese anche i sindaci blei hanno aderito all'invito del lanci rivolto a tutti i primi cittadini delle città italiane per resporre la bandiera a mezzasta sulle facciate dei propri comuni ricordando con un minuto di silenzio le vittime della terribile epidemia e quanti lavorano per combattere il coronavirus bene questo è tutto non ci sono aggiornamenti quindi l'appuntamento è con le prossime edizioni grazie e arrivederci